Visto da qui, ci sono veramente delle state meravigliose! Allora, questo carro, vogliamo farlo noi, tra l'altro da Lugo, gli evi sei bacioni, ci siamo divertendo di molto costruendolo, l'idea è un po' strana, ma insieme possiamo fare varie cose. Inoltre, volevo precisare una cosa, non siamo uno dei carri più numerosi, ci siamo, che carro più numerosi! E' un po' strano! E' un po' strano! Facciamo questo applauso allora, ci sono i miei sui carri! 510 maschere!